Allora come ultimo speaker prima di pranzo abbiamo avvocato Martino, lei è cofondatrice di Legal4Digital e si è dedicata al diritto digitale e al corretto trattamento dei dati personali. Penso che abbiamo quasi tutti provato chat GPT ma cosa ci riserva il futuro per quanto riguarda l'intelligenza artificiale? Scopriamolo insieme nei prossimi 30 minuti Grazie, grazie a tutti, mi ha presentato Pascal, lo ringrazio, quindi non aggiungo nient'altro dal 2017 mi occupo di diritto del digitale perché prima di tutto mi piace, mi piace tanto e quindi mi sono occupata solo di questo, ho creato la mia nicchia e poi abbiamo fondato lo studio Legal4Digital. Allora oggi siamo qui per parlare di intelligenza artificiale ovviamente non sotto gli aspetti informatici che è quello che trattate voi esperti del settore ma sotto il punto di vista normativo, quindi come impatta l'intelligenza artificiale sulle leggi. Beh sicuramente l'intelligenza artificiale è qualcosa che mostra, è più vicino possibile tra l'informatica e l'intelligenza umana perché ha capacità umane e quali sono queste capacità che replica? Il ragionamento, l'apprendimento perché infatti ora vedremo il problema dell'apprendimento, la pianificazione, tutto ciò che è creatività e lo vedremo nelle app appunto che sfruttano la creatività del disegno, della musica e quindi ci permette questa intelligenza artificiale di non solo avere a che fare con il nostro ambiente ma anche risolvere dei problemi e risolverli soprattutto in maniera veloce e poi ricevere dati, processarli e rispondere e sul problema dei dati vedremo qual è lo stato dell'arte e vi aggiorno già che nel mentre che avevo consegnato le mie slide è intervenuto il garante privacy italiano, l'unico a livello mondiale che abbia appunto contestato chat GPT e vedremo perché su una serie di cose. Quali sono le normative quindi che vengono coinvolte a prescindere dal garante privacy con l'utilizzo dell'intelligenza artificiale? Il regolamento privacy sicuramente perché come ho detto prima impatta sui dati, quindi quale tipo di dati, quanti tipi di dati? La legge sul diritto d'autore perché cosa abbiamo detto prima? Può replicare immagini, tocca la creatività che può essere un testo, che può essere un video, quindi una fotografia, il codice penale. Come diceva prima nello speaker precedente, l'altro speaker, io potrei fare un articolo dove in realtà vado a diffamare qualcuno o vado a dire cose non corrette, quindi fake news, quindi attenzione. E poi responsabilità civile e contrattuale, lo vedremo fra poco, chi è l'autore di quel determinato disegno, di quella determinata elaborazione creativa, come impatta sulla normativa. E poi il codice del consumo, perché il codice del consumo? Perché vedremo più tardi un'app che potrebbe impattare sulla pubblica fede e sulla concezione del pubblico rispetto al testo che sta leggendo e vi porterò un esempio concreto. Prima di fare questo però, dobbiamo capire come l'intelligenza artificiale apprende, perché in realtà apprende. Allora, abbiamo due funzionalità principali, il machine learning e il deep learning. Il machine learning è un apprendimento automatico che funziona tramite ovviamente l'utilizzo di algoritmi e si adatta quando riceve dei feedback da parte dell'operatore. Il machine learning funziona con una serie di dati. Questi dati vengono definiti dati strutturati. Cosa sono i dati strutturati? Sono dati quantitativi. Cioè io devo dare un tot di dato strutturato affinché impari la macchina e mi replichi, mi dia un output, un risultato. Dove lo posso utilizzare? Finora è stato già utilizzato ampiamente nel marketing, assistenza clienti, pensiamo anche le forme rudimentali di bot, di chat live, nelle vendite, attività SEO, addirittura ricerche su Google. Ma la cosa più interessante secondo me che ha iniziato a prendere piede ed è qui il vero genio dell'uomo che l'ha creato, il deep learning. Cioè il deep learning è un sotto insieme ed è il momento in cui l'algoritmo usa reti neurali. E qua la vera sfida secondo me del futuro. Non è più la quantità di dato strutturato ma una volta immesso il dato strutturato come la macchina lo percepisce e impara da sola. E qui il vero salto nel futuro. E qui secondo me la sfida. I dati strutturati quindi non sono più necessari. Una volta che io li ho immessi non devo andarne a immettere sempre nuovi perché lui apprende da solo. Il sistema appunto funziona con reti neurali cioè sta replicando il nostro cervello. Attenzione. E quindi è vero che viene istruito da uno sviluppatore ma non è più necessario perché inizia a imparare un suo linguaggio. Il deep learning qua ragazzi l'utilizzo è meraviglioso secondo me. Io sono innamorata della scienza, sicurezza, assistenza clienti. Ma vogliamo pensare alla robotica, nella medicina. Cioè è un qualcosa di meraviglioso. Ovviamente qualcosa di meraviglioso che andrà gestito. Andrà capito. Anche sotto il punto di vista etico. Che non scordiamo ce lo sarà una sfida. Quali sono le problematiche legali che puoi incontrare? Parliamo di chat GPT. Allora io l'ho provato e mi piace moltissimo perché tu fai delle domande lui agisce in modo conversazionale. Molte volte ammette di aver capito male perché io gli avevo chiesto di un documentario e lui me ne ha dato un altro e mi ha ammesso che non aveva capito. Contesta anche delle premesse errate quindi controbatte e può anche rifiutare cose che ritiene non corrette o anche un linguaggio scorretto. Chat GPT utilizza il deep learning. Non è un machine learning. Non è solo machine learning. E questo secondo me è un qualcosa che il garante privacy ha completamente o fatto finta di ignorare o non l'ha analizzato. Possibili pericoli. Sì ce ne sono. Diffusione di contenuti da nevasi. Come abbiamo visto prima. Fake news. Per esempio alcuni colleghi, io ho fatto un corso alla Stato di Milano di Coding Floyer, hanno detto che ha riassunto male delle decisioni di garanti europei eccetera. Però va bene, forse non lo userei per fare certi riassunti. Diffusione di disinformazione, minacce alla privacy, diffusione di contenuti appunto non veritieri. E poi abbiamo il parente di Chat GPT che è dal... Lui è specializzato nelle fotografie, nelle immagini. Parto da un'opera artistica, parto da una mia fotografia e ne elaboro una nuova. Capirete che qui le sfide sono pazzesche. Uno, le fake news. Avete visto tutti il Papa col giubbottino bianco, tre men. Però lì io vado ad impattare sul consumatore. Il consumatore è in grado di capire che quella è una fake news? È in grado di capire che Donald Trump non è stato arrestato davvero, ma era un gioco? Cosa prevede allora nei suoi termini di servizio? Che in realtà non legge mai nessuno. Anche io quando li preparo per i miei clienti, gli dico sempre non li leggono mai, li leggeranno solo quando ci saranno dei problemi. E in realtà si proteggono loro, perché dicono qualsiasi contenuto tu creerai con il nostro algoritmo dovrai attribuirtene la proprietà. Quindi sei tu responsabile. Devi indicare che quel contenuto è stato generato tramite un'intelligenza artificiale in modo tale che l'utente finale possa distinguere, possa capire usare questo termine ragionevolmente non fraintenderlo va bene e poi non condividere contenuti che violano la loro politica sui contenuti quindi contenuti sotto copyright dove ci sono diritti di terzi, eccetera. Ovviamente come potete prevedere queste sono norme messe a tutela ma insomma e poi vi voglio parlare di questo perché in questi mesi io ho sentito parlare di tanti che dicono l'intelligenza artificiale non ci sostituirà perché è fredda è un qualcosa che restituisce dati in realtà c'è questa bellissima app tutta italiana che si chiama Peperoni AI fatta in Emilia Romagna dove addirittura si basa su un'impronta empatica ha sviluppato ed è già pronta quest'app in grado di rilevare le emozioni delle persone e di adattare le risposte vedete il deep learning? Sta imparando sta imparando da solo le emozioni questa è meravigliosa quindi crea una connessione emotiva mi ho detto prima attenzione ai consumatori eccolo e c'è lui Padre Pio questa è una bellissima app dove io ho scritto a Padre Pio caro Padre Pio mi chiamo Brunella Martino è un'app con la quale un utente bisognoso di una parola bella di una parola di conforto di pregare anche con Padre Pio può fare la sua richiesta a Padre Pio gli scrive infatti dice scrivimi ciò che vuoi puoi parlarmi dei tuoi problemi questo utilizza chat e GPT ma il consumatore l'ha capito che non è Padre Pio speriamo perché nei termini di servizio ovviamente questo è un prodotto che poi si estenderà ad altri santi questo era un prototipo ora andiamo a Santa Rita ho partecipato a questo progetto quindi vi posso dire che ci saranno nuovi santi per ora però è tutto bloccato perché per colpa della decisione del garante privacy questa app ora non funziona in questo momento cosa dicono i legislatori allora prima di tutto Ufficio Europeo Brevetti ci hanno provato a attribuire un brevetto un'invenzione direttamente all'intelligenza artificiale questo ad oggi non è possibile perché c'è sempre l'intervento umano le nostre regole normative italiane e europee vogliono una persona fisica che si attribuisca l'opera che sia un brevetto che sia un marchio che sia un'immagine proprietà intellettuale ad oggi è aperta la questione circa di chi sia la proprietà intellettuale di un'opera completamente fatta da intelligenza artificiale non so se ci avete provato ci avete un po' giocato gli descrivete due o tre caratteristiche e ti butta fuori un'immagine ma di chi è? io gli ho dato un'istruzione però l'ha realizzata l'intelligenza artificiale quindi come vedete il dibattito etico senza entrare nella robotica e nella medicina c'è anche qui dov'è il confine dell'uomo e poi do not pay questa era una bella iniziativa di questo collega americano che ha detto ma sai che c'è in America costano tantissimo i mercati per le piccole cause creiamo un un qualcosa che possa aiutare con una cuffia come la mia l'intelligenza artificiale ascolta le domande dell'avvocato avversario del giudice e mi suggerisce cosa dire ovviamente ci doveva essere un'udienza ma se è mossa contro questo povero collega tutto l'ordine degli avvocati americani lo hanno quasi distrutto quindi per ora è ferma perché ovviamente ritengono che magari si potrebbero trovare senza lavoro per un po' di persone però adesso lui si occupava questa app solo di multe di paccheggio e piccole sanzioni quindi era l'idea però soprattutto per chi non ha possibilità di pagare un avvocato e poi ecco il nostro garante privacy questa slide l'avevo creata prima del 30 marzo 2003 2023 scusate il garante privacy infatti fino a quella aveva semplicemente detto beh stiamo attenti vigiliamo sugli algoritmi seguiamo i principi di trasparenza valutazione di impatto belle parole tutto molto bello ma poi siccome in questi anni il garante italiano non ha mai fatto un'iniziativa contro nessuno eccetera abbiamo pensato bene di farla noi a livello mondiale contro chat gpt e l'ha bloccato tutti gli utenti italiani con effetto immediato non possono utilizzarlo ha vietato provvisoriamente il trattamento ovviamente questa decisione ha suscitato critiche da parte di molte testate ad oltro ceneo che europee perché ovviamente è una decisione un po' un po' e perché quali sono le motivazioni la mancanza di un'informativa un'informativa privacy chiara che possa informare tutti gli utenti cosiddetti interessati di come vengano raccolti e trattati i dati un'assenza di base giuridica e ora vi spiegherò che cosa significa che giustifichi la raccolta e la conservazione di quei dati strutturati che vi parlavo di cui vi parlavo prima e poi le informazioni fornite da chat di cpt non corrispondono al dato reale però questo non dovrebbe interessare il garante privacy e poi il servizio è anche rivolto ai maggiori di 13 anni ma non c'è attualmente un filtro che verifichi la la maggiore età ovviamente cos'è successo ha dato 20 giorni per comunicare tutte le misure intraprese comunque per aprire un tavolo di trattativa pena una sanzione fino a 20 milioni di euro o comunque il 4% del fatturato globale anno questa è un'immagine realizzata da per esempio su mie indicazioni allora quali sono le le riflessioni finali da quella data del 30 marzo ogni giorno c'è stato un comunicato l'ultimo è stato del 14 non ho fatto in tempo a fare la slide sostanzialmente OpenAI che è la società che ha creato ChatGPT si è messa a disposizione ha aperto un tavolo diciamo così di confronto con il garante il garante ha fatto delle richieste prima di tutto creare un'informativa trasparente che possa spiegare bene il meccanismo di utilizzo prima di raccolta di questi dati strutturati e come vengono utilizzati per formare l'intelligenza artificiale va bene la base giuridica che vi dicevo prima cosa succede quando io mi iscrivo a ChatGPT mi devo registrare l'avete fatto tutti no? e io mi iscrivo e accetto la privacy come base giuridica il contratto cosa significa che OpenAI poi può trattare i miei dati in virtù di un contratto per molto tempo e può conservarli per dieci anni per fine contrattuale al garante questo non sta bene e vuole che sia invece cambiata la base giuridica o nel consenso quindi io ti do un consenso e quindi questo significa che posso sempre revocartelo oppure legittimo interesse quindi legittimo interesse a prendere i tuoi dati a immetterli come dati strutturati a formare l'intelligenza anche qui sia legittimo interesse che consenso possono essere sempre revocati per i minori per i minori ha richiesto che venga prima di tutto prima del momento di registrazione che ci sia un'informativa e che venga ben dichiarato che sia maggiori di 13 anni e che siano implementate delle misure tecniche per dichiarare questa cosa vedremo quali e poi in ultima la cosa fantastica che aveva già fatto per TikTok un paio di anni fa quando ci fu quella bimba che morì non so se vi ricordate che aveva fatto un gioco e si era strozzata con anche lì ha chiesto a OpenAI di fare una serie di spot pubblicitari sulle reti nazionali informative per dire appunto che i minori potranno utilizzarlo con tutte le tutele del caso eccetera e quindi di fare informazione questo questo provvedimento è stato dato la scadenza il 30 aprile quindi vedremo ogni giorno vi invito a guardare anche il sito del garante dove vengono pubblicate costantemente queste tavole rotondi questi provvedimenti eccetera sicuramente si colloca in una fase europea di normativa dell'intelligenza artificiale infatti abbiamo la IACT lì per partire dove comunque ci si rifà principi generali come quelli del regolamento privacy sicuramente la mia riflessione finale a parte il fatto che tanti tanti stanno usando chat cpt grazie alla vpn quindi inutile diciamo chi lo sa fare lo sta già facendo quindi un po' un divieto io penso che con i divieti non si possa andare avanti soprattutto nel 2023 soprattutto davanti a queste sfide sì ragionare sì capire ma quando io dico voglio capire il dato strutturato che viene immesso come viene trattato eccetera stiamo trascurando il deep learning e la funzione di deep learning come la controlliamo il suo il suo colloquio il suo apprendimento automatico come lo controlliamo quindi non bastano queste decisioni ho tolto una slide per non essere troppo lunga in cui appunto due macchine hanno iniziato a parlare loro in un linguaggio sconosciuto questo nel 2018 l'uomo l'informatico che li sta programmando non li attiva questo è deep learning imparano da sole sanno parlare in un linguaggio proprio quindi come vedete vista nell'ottica questa della privacy è un piccolo punto c'è proprietà intellettuale diffamazione contratto consumatori ma veramente ci sarà gente che pensa che è quello padre pio c'è nessuno vedendo l'intelligenza media di tanti che stanno sui social o su internet insomma mi spaventerei quindi io vi lascio con queste riflessioni quello che vorrei smettere non dovete avere paura non abbiate paura di utilizzare la scienza comunque di utilizzare l'intelligenza artificiale questo è il nostro futuro creiamoci problemi etici di come noi utilizzeremo queste cose quello sì di quello ci dobbiamo preoccupare io vi ringrazio di avermi ascoltata spero di avervi dato degli stimoli vi invito a seguire la questione entusiasmante di chat GPT sul sito del garante e speriamo insomma dal 30 aprile di poter utilizzarlo in maniera ufficiale grazie a tutti grazie lo chiedo ci sono domande abbiamo qualche minuti abbiamo ancora 7-8 minuti dunque se avete domande potete farlo ok vengo io hai bisogno di un mascherino o no? no? ok grazie infinite è stato super interessante la mia domanda va dal punto di vista etico e anche a che fare con la nostra comunità ogni volta che c'è un evento alcune persone tra cui me del gruppo del team community dobbiamo fare il vetting quindi il controllo di organizzatori speaker e per assicurarci che almeno per quanto riguarda la loro presenza online non abbiano comportamenti che violino il codice di condotta della comunità e quindi andiamo a vedere i loro social li cerchiamo e ci era venuto in mente che avremmo potuto usare chat GPT per fare questa ricerca sarebbe eticamente per velocizzare i tempi perché se ci mettiamo meno tempo vuol dire che gli organizzatori e gli organizzatrici hanno prima una risposta e quindi il processo si velocizza per loro e per noi eticamente andrebbe bene o ci sarebbe qualche corremore rischio ti ringrazio questa è una bellissima domanda eticamente va bene è però un problema che il garante ha sottolineato sotto un punto di vista hanno visto che mettessi Brunella Martino potrebbero uscire delle notizie contrastanti tra di loro e comunque magari riferite a persone che omonime mie ma che magari hanno fatto un qualcosa di negativo chat GPT ad oggi non è ancora così formato da poter chiaramente delineare un soggetto infatti il garante su questo punto ha chiesto trasparenza nella possibilità di poter cancellare quindi il cosiddetto oblio o la rettifica di alcuni dati che ad oggi non è possibile fare perché dice se Brunella Martino si accorge di essere associata a una mafiosa camorrista eccetera magari può ledere la sua professionalità può deve essere messa in grado da chat GPT di rettificare o comunque di cancellare questa associazione però come azione di ricerca è proprio quello l'obiettivo d'altro canto lo prende da social dove io decido di stare dove decido di avere un account non privato quindi accessibile e quindi possono ricercare prego grazie ok vado di là ma a questo proposito però io non ho capito una cosa nel senso che chat GPT fa delle associazioni su informazioni che sono state rese disponibili a lui quindi lui fa delle associazioni addirittura certe volte io gli dico una cosa in un modo e mi dà un risultato lo dico leggermente in un altro modo e mi dà un altro risultato quindi come si fa a dirgli cancella il fatto che non è una camorrista se da qualche parte c'è scritto comunque lui capisce che c'è l'associazione di quel tipo corretto sicuramente non lo possiamo fare noi utenti quello che vuole il garante è che colui che lo istruisce gli faccia capire che quando fa le ricerche sono due soggetti diversi è una sfida e io vi posso anche dire è un bambino ancora chat GPT cioè lo stiamo ora testando sono mesi quindi che ad oggi non sia preciso e che possa associare Brunella Martino ovunque in base a quello che trova sul web piano piano bisognerà accompagnarlo il garante ha chiesto proprio questo che l'operatore possa comunque andare a correggere quel dato e cancellare quel dato come oggi avviene su Google quando io esercito il diritto all'oblio o il diritto alla cancellazione in questo senso però è una sfida non è facile per nulla ok altre domande molto utile va bene sì spero che non sia una domanda stupida rispetto al training che hanno avuto queste intelligenze artificiali e al materiale noi diciamo è materiale pubblico però noi che pubblichiamo sul web sappiamo che anche se il materiale è pubblico io non ne posso fare qualunque uso arbitrariamente io decida cioè per dire quello che io sapevo ma magari è scorretto che anche nel momento in cui io condivido una foto su un social per esempio se l'autore o l'autrice non ha piacere che la foto sia condivisa sul mio feed può chiedermi che il contenuto sia rimosso dal mio feed e quindi facendo il processo all'indietro io mi chiedevo cioè secondo me il problema è a monte io non ho mai espresso il mio consenso al fatto che dati che pure sono miei e pubblici fossero usati per il training di queste intelligenze artificiali e secondo me non è solo un problema etico è anche un problema commerciale cioè dal momento che ha GPT non è un ente benefico ma è sul mercato il fatto che abbia usato secondo me ma magari arbitrariamente per il proprio training dei dati che avrebbero dovuto forse essere consensati almeno secondo la normativa europea crea una concorrenza non leale rispetto a chi ha invece richiesto tutti i consensi per l'utilizzo di questi dati concorrenza economica sicuramente però molto intelligente la tua osservazione non è posta al garante questa osservazione nel senso ora in questo momento è occupato sui dati chat GPT non tratta immagini tratta testi quindi comunque si può prendere dei testi in vari punti testi pubblicati ovviamente ad oggi quei testi possono essere anche usati per scopo commerciale mettiamo il blog se io vendo servizi di blog di posting quindi comunque posso utilizzarli come vi dicevo prima una delle normative convolte è il diritto d'autore perché io sto facendo un plagio se prendo un qualcosa di uno lo faccio un po' lo rimescolo e lo metto in commercio così come da lei per le immagini per esempio la foto di prima che vi ho detto del Papa al di là della fake news quella è un'immagine è un dato personale perché è un ritratto di un volto violo il codice civile perché in realtà l'articolo 10 mi dice che il dato personale è tutelato non posso utilizzarlo come voglio e posso appellarmi alla satira quindi le sfide sono tante cioè il fatto del dato personale è una piccola un piccolo elemento di tutto quello che deve essere normato ecco ma sicuramente non lo puoi fare vietando perché fai perdere anche la percezione del fatto di voler incanalare bene cioè vietando le cose non è così che si risolvono sicuramente dimmi un'ultima domanda sì no ricollegandomi anche alla risposta che ha fornito ma è ipotizzabile che in futuro CHAPCPT o qualunque altra intelligence artificiale possa fornire le fonti delle immagini o dei contenuti che poi varie a rilavorare allora le fonti difficile allora CHAPCPT cioè se tu gli dici prendimi questo riassunto datelo dice da dove l'ha preso se deve fare o l'ho visto anche io quando gli ho chiesto dei test europei ti dice da dove l'ha preso il problema è che ad oggi non è così preciso e poi anche se ti dice la fonte bisogna vedere tu come lo usi perché quello ti può dire la fonte tu lo usi come diceva lei per scopo commerciale comunque fai anche un'attività scorretta verso chi magari fa un utilizzo corretto fa dei testi autentici eccetera quindi citare la fonte un po' non credo sia la soluzione ok andiamo a pranzo andiamo a pranzo Avvocato Martino grazie grazie per questo talk piccolo regalo da noi grazie mille grazie a tutti grazie mille 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 Grazie a tutti